Noi cercavamo su questo territorio un ambassador che promuovesse questo nuovo brand di cui siamo concessionari e c'è stata l'opportunità di questa partnership con Volifano e siamo molto soddisfatti perché sicuramente porterà visibilità a questo nuovo marchio che ben si coniuga con lo spirito sportivo visto il look accattivante con un taglio sportivo aggressivo delle vetture oltre a una qualità di alto livello. Poi la Volifano ha un grosso seguito di tifosi ed è molto radicata sul territorio con un settore giovanile molto ampio e quindi siamo sicuri che promuoverà nel modo migliore questo marchio. Questo marchio si affaccia in Italia da qualche mese, si è affacciato quindi noi siamo distributori per le zone di Pesero e di Ancona, provincia e adesso si arricchirà di ulteriori nuovi modelli che nell'arco dei 6-7 mesi faranno sì che avremo una gamma molto completa di prodotti. Punta sicuramente sulla qualità, sul carattere sportivo dei veicoli ad un prezzo competitivo insomma. La concessionaria Pieralisi è stata per tantissimi anni un punto di riferimento sul Pesarese per la concessionaria marchio Citroen. Sono più di 60 anni che esiste la concessionaria Fratelli Pieralisi SPA e hanno deciso di rilanciare proprio la struttura qui sul Pesarese con questi due nuovi marchi, Omoda e Jaiku, che sono due nuovi brand che sicuramente terranno alto il nome della famiglia Pieralisi e della concessionaria Pieralisi proprio come è stato diciamo dagli inizi fino ad oggi. Quindi due brand che serviranno anche per riprendere una fiducia nei confronti di un nuovo consumatore e soprattutto per portare avanti questo nuovo progetto a livelli sicuramente elevati come lo è stato finora ecco, proprio perché comunque anche il prodotto è un prodotto di qualità elevata e soprattutto anche per il fatto che riusciamo a dare al consumatore sette anni di garanzia. Quindi parliamo veramente di un qualche cosa di eccezionale. Ringraziamo questa nuova partnership con lo gruppo Pieralisi. Siamo entusiasti di questa collaborazione, un gruppo noto e storico che ci ha fornito di questi due automezzi che daremo ai nostri giocatori più rappresentativi. Sicuramente visto in noi una società ben strutturata, organizzata e storica come il gruppo Pieralisi, infatti quest'anno compieremo 60 anni di attività perché non c'è soltanto la Sierra 2, anzi è soltanto la punta di un iceberg. In realtà abbiamo un florido vivaio giovanile composto da 600 ragazzi e ragazze e abbiamo un indotto di circa 4.500 persone e sono numeri sui quali puntiamo tanto e il gruppo Pieralisi ha sicuramente notato queste cose e speriamo di ripagare la fiducia che ci è posta in noi. Noi siamo una squadra insomma credo giovane, mix di giovani e più esperti, una squadra ne ho promossa quindi c'è tutto l'entusiasmo di affrontare un nuovo campionato. Sono qui da poco io perché sono arrivato da 20 giorni ma sto trovando un ambiente ambizioso e molto motivato e questo sicuramente è molto stimolante e credo che anche questa partnership testimoni il fatto che la società voglia fare le cose fatte bene e anche sul territorio sta lavorando tanto, hanno un bellissimo settore giovanile quindi sto trovando una realtà veramente molto ambiziosa che mi piace.